Il Consiglio regionale delle Marche approva il piano sociosanitario 2023-2025, l'atto amministrativo fissa linee programmatiche, indirizzi e obiettivi di settore riguardanti personale, infrastrutture fisiche e digitali per il triennio. Quello di una mappatura complessiva è di un'integrazione fra servizi sanitari, ospedalieri e servizi territoriali che ovviamente sono, se non assenti, fortemente carenti e una previsione di poter conseguire in modo razionale la valorizzazione di tutte le strutture esistenti, la reintegrazione di quei servizi che sono saltati nel corso del tempo per previsioni normative oggi ingiustificabili e il potenziamento delle risorse che continuerà ad essere carente per il prossimo futuro, ma sulla previsione di questo piano è un contrasto che in qualche modo può essere affrontato con una maggior forza, come ugualmente il contrasto alla mobilità passiva che rimane un must di ogni piano sociosanitario ma che credo che con questo si possa in qualche modo realizzare. È un contenitore farcito di tutto che non dà risposte alla salute e alla necessità di sanità dei marchigiani e delle marchigiane. Quello che troviamo in questo contenitore è che tutto si espande, tutto migliora, tutto si potenzia, tutto si incrementa ma lo facciamo senza scegliere ma soprattutto senza aggiungere un euro se non quelli che sono stati sottratti per pagare i direttori delle nuove AST che vengono tolti agli infermieri, vengono tolti all'OSSE e vengono tolti ai medici. Un buon lavoro in tempi brevi perché tutto sommato il punto zero è stato alla fine della pandemia, quindi l'estate del 2022. Da quel momento si è lavorato sul fabbisogno, sui temi più importanti al tappeto, è stato costruito un piano, la giunta l'ha prodotto il 23 maggio e a distanza di due mesi, poco più di due mesi, siamo all'approvazione in aula. È quasi un passaggio miracoloso perché soprattutto abbiamo consultato tutti. Ci sono stati 130 soggetti auditi in commissione, 130 è una cifra straordinaria e i temi che hanno posto sul tappeto sono stati tutti integrati nella formulazione successiva del piano. Tutte le categorie, tutti gli enti, tutte le associazioni che sono state udite hanno portato un contributo. Questo contributo è stato valutato, studiato e portato anche all'interno del gruppo Rinasci Marche. Vede positivamente questo rapporto che c'è stato al di fuori del palazzo dove spesso quando si scrivono delle leggi o si scrivono dei piani le persone ci rivendicano che all'interno del palazzo si fanno le decisioni. Le decisioni sono state prese in maniera aperta con l'ascolto, con un ascolto attivo. Questo ascolto attivo è stato messo all'interno del piano, questo ascolto attivo ha visto il favore del gruppo Rinasci Marche che ha lavorato concretamente nel portare dei miglioramenti a questo piano.